gennaio era la mattina del gennaio le cinque suonavano mentre bessie con la candela in mano entrava nel mio stanzino ero alzata e quasi vestita mi ero levata una mezz'ora prima e dopo essermi lavata il viso mi ero infilata i vestiti alla pallida luce della luna i cui raggi penetravano nella stanza dall'angusta finestra dovevo partire da gateshead quel giorno e prendere alle sei la diligenza che passava davanti alla casetta del portinaio Bessie sola era alzata ella aveva acceso il fuoco e si preparava a scaldarsi la colazione rari sono i bimbi che possano mangiare prima di mettersi in viaggio neppur io poteva Bessie mi pregò di buttar giù una o due cucchiaiate di pappa con latte che mi aveva prima preparato cerco allora alcuni biscotti e li mise nella mia borsa mi aiutò poi a mettermi la pelliccia e il mantello si avvolse in uno scialle e uscimmo dalla camera dei bambini quando giunsi davanti alla camera della signora Reed Bessie mi domandò se volevo dire addio alla sua padrona no Bessie risposi ieri sera quando scendeste per la cena ella si avvicinò al mio letto e mi dichiarò che partendo non aveva bisogno di disturbare né lei né le mie cugine mi disse pure che era stata sempre la mia migliore amica e che non lo dimenticassi poi mi pregò di parlare bene di lei e di esserle grata e che cosa le rispondeste? niente nascosi il viso sotto le coperte e mi voltai verso il muro faceste male signorina Jane no Bessie era giusto la vostra padrona non è mai stata buona con me anzi mi ha trattato sempre come una nemica oh signorina non lo dite addio Gateshead dissi passando sotto il portone la luna era sparita e la notte rimasta tenebrosa Bessie portava una lanterna che illuminava gli scalini umidi della gradinata e i viali inondati dal disgelo io battevo i denti per il freddo la casetta del portiere era illuminata e giungendovi trovammo la moglie che accendeva il fuoco la sera prima vi avevano portato il mio baule già legato erano le sei meno qualche minuto quando un rumore di ruote annunziò l'arrivo della diligenza mi diressi verso la porta e vidi la luce delle lanterne avanzarsi nelle tenebre parte sola domandò la portinaia si va lontana a 50 miglia com'è distante mi sorprende che la signora Reed la mandi sola per fare un viaggio così lungo una carrozza tirata da due cavalli con l'imperiale coperto di viaggiatori si fermò davanti alla porta il postiglione e il conduttore raccomandarono di far presto il baule fu alzato e mi strapparono dalle braccia di Bessi mentre le ero sospesa al collo abbiate cura della bimba gridò ella al conduttore quando questi mi metteva dentro il legno si rispose lo sportello fu chiuso e sentì una voce che diceva avanti allora la carrozza riprese la via così fui separata da Bessi e da Gateshead così fui condotta verso regioni ignote e che credevo lontane e misteriose mi rammento poco del viaggio il giorno mi parve interminabile e credevo che avessimo percorso centinaia di leghe si attraversò diverse città e in una di esse la carrozza fece sosta i cavalli furono cambiati e viaggiatori scesero per desinare mi condussero in un albergo e il conduttore volle farmi mangiare qualcosa ma siccome non avevo fame mi lasciò in una sala immensa nella quale vi erano due caminetti all'estremità nel mezzo era sospesa una lumiera e in alto nella galleria vi erano tanti strumenti musicali passeggiai un pezzo nella sala sentendomi oppressa da strani pensieri temevo che mi portassero via perché credevo ai rapitori le cui gesta figuravano spesso nei racconti di Bessie alla fine il conduttore tornò e mi fece salire in carrozza e poi soffiò nel corno e la carrozza partì la sera si annunziava umida e carica di nebbia quando annottò capì che eravamo molto distanti da Gateshead non traversavamo più città il paesaggio era cambiato alte montagne e bige limitavano l'orizzonte l'oscurità aumentava più ci inoltravamo nella valle cullata da suoni armoniosi mi addormentai e dormivo da un pezzo quando la scossa che fece la carrozza nel fermarsi mi destò davanti a me stava una donna che non conoscevo c'è qui una bimba che si chiama Genair domandò sì risposi ella mi fece scender subito e prese in consegna il baule la diligenza ripartì il rumore e le scosse della carrozza mi avevano sbalordita riunire facoltà mentali per guardare attorno a me il vento la pioggia e il buio riempivano lo spazio però potei distinguere un muro nel quale era aperta una porta la mia nuova guida me la fece passare e dopo averla chiusa dietro a sé spinse il catenaccio avevo allora davanti una casa o per dir meglio una serie di case che occupavano una vasta area le loro facciate erano forate da molte finestre poche delle quali erano illuminate percorsi un viale comodo in fondo al quale vi era un'altra porta di là entrammo in un corridoio che conduceva in una stanza col fuoco la donna mi lasciò sola rimasi dinanzi al caminetto cercando di scaldarmi le mani gelate poi volsi intorno lo sguardo non c'era lume ma la fiamma oscillante del caminetto mi mostrava a intervalli un muro coperto di carta dei tappeti delle portiere dei mobili di mogano brillante ero in un salotto non così elegante come quello di Gateshead ma che mi parve comodo e abbastanza bello mi studiavo di capire che cosa rappresentasse un quadro appeso al muro quando qualcuno entrò con un lume dietro vi era una seconda persona la prima era una donna alta con occhi e capelli neri con la fronte spaziosa e pallida benché fosse avvolta in uno scialle mi parve che la sua figura fosse nobile e grave il contegno questa bimba è molto piccina per essere mandata qui sola disse posando il candeliere sulla tavola per un momento mi esaminò poi aggiunse bisogna metterla subito a letto è stanca siete stanca bambina mi domandò posandomi la mano sulla spalla un poco signora avete fame certo prima di mandarla a letto datele da mangiare signorina Miller è la prima volta che lasciate i vostri genitori per venire in pensione piccina le risposi che non avevo genitori mi domandò da quanto tempo li avevo perduti quanti anni avevo come mi chiamavo se sapevo leggere scrivere e cucire quindi mi accarezzò dolcemente il viso dicendo spero che sarete buona poi mi consegnò alla signorina Miller la giovane signora che avevo lasciato poteva avere poco meno di trent'anni quella che mi accompagnava era un poco più giovane la prima mi aveva colpito per l'aspetto per la voce e per lo sguardo la signorina Miller era meno notevole aveva la carnagione rossastra a macchie e il viso stanco la camminatura e i movimenti di lei rivelavano una persona che è sopraccaricata di lavoro pareva una sottomaestra e tale era infatti ella mi condusse di stanza in stanza di corridoio in corridoio attraverso una vasta casa costruita irregolarmente un silenzio profondo che mi sgomentava un poco regnava in quella parte dell'istituto che avevamo attraversato un mormorio di voci si udì ben presto entrammo in una vasta sala a ogni estremità vi erano due tavole ciascuna delle quali era illuminata da due candele attorno alle tavole sulle panche erano sedute tante ragazze dai dieci ai vent'anni mi parvero innumerevoli benché arrivassero appena a ottanta esse portavano tutte un uniforme di stoffa scura e di forma strana sopra al vestito avevano lunghi grembiuli di tela era l'ora dello studio e tutte ripassavano la lezione per il giorno seguente la signorina Miller mi fece cenno di sedermi su una panca vicina alla porta poi dirigendosi in fondo alla stanza esclamò monitrici ricevete i libri di lezione e ritirateli quattro ragazze grandi si alzarono presero i libri e li riposero la signorina Miller esclamò di nuovo monitrici andate a prendere la cena le quattro ragazze uscirono e tornarono poco dopo recando un vassoio sul quale era una torta tagliata a pezzi nel centro era collocato un boccale e un vaso pieno d'acqua le parti furono distribuite alle alunne e quelle che avevano sete presero il boccale che serviva a tutte quando venne il mio turno bevvi perché avevo la gola riarsa ma non potei mangiare l'eccitamento e la fatica del viaggio mi avevano tolto l'appetito quando il vassoio mi passò davanti mi accorsi che la cosa consisteva in una torta d'avena dopo il pasto la signorina Miller lesse la preghiera e poi le alunne a due a due salirono affranta dalla fatica com'ero badai poco al dormitorio ma mi parve lungo come la sala di studio quella notte dovevo dormire con la signorina Miller che mi aiutò a spogliarmi e appena mi fui coricata canti in un profondo sonno nello svegliarmi sentì il vento mugire e l'acqua cadere a torrenti suonava una campana e tutte le ragazze si alzarono il giorno non era ancora spuntato e un paio di lumi erano accesi nel dormitorio mi alzai anch'io di malavoglia perché era freddo e mi vestii tremando quando una delle catinelle fu libera mi lavai ma dovetti aspettare un pezzo perché una serviva a sei terminata che fu la toilette la campana si fece udire di nuovo tutte le alunne si allinearono a due a due scesero la scala ed entrarono nella sala di studio appena illuminata le preghiere furono lette dalla signorina Miller che esclamò dopo formate le classi ne nacque un certo rumore la signorina Miller non cessava di ripetere ordine e silenzio quando la calma fu ristabilita mi accorsi che le alunne erano separate in quattro gruppi ognuna di esse era davanti a una seggiola e ogni alunna aveva un volume in mano un altro che presi per una bibbia era collocato sulla tavola dinnanzi alla sedia vuota il suono di una campana lontana aveva colpito le nostre orecchie quando tre signore entrarono nella stanza ognuna di esse si sedè dinnanzi a una delle tavole la signora Miller alla quarta presso la porta ov'erano le piccine fra le quali fui collocata il lavoro incominciò si recitarono le lezioni del giorno e alcuni passi della scrittura poi si fece una lunga lettura della bibbia quando gli esercizi furono terminati era giorno chiaro l'instancabile campana suonò per la quarta volta le alunne si separarono di nuovo e si diressero al refettorio ero contenta di poter mangiare un poco perché il giorno avanti mi ero così poco nutrita che mi sentivo morire di media sulle lunghe tavole dell'ampio refettorio fumavano due bacini che non eccitavano davvero l'appetito vi fu un movimento generale di malcontento quando l'odore della pietanza giunse alle nari delle ducande le grandi che erano avanti mormorarono che orrore la minestra è bruciata anche oggi silenzio impose una voce chi aveva dato quell'ordine era la maestra delle grandi donnina vestita bene ma non simpatica ella si mise in cima alla tavola mentre che un'altra signora più gentile d'aspetto presideva la seconda alla mia sorvegliava la signorina miller e alla quarta la maestra di francese si cantò un inno una donna portò il tè alle maestre e noi cominciammo a mangiare buttai giù qualche cucchiaiata di brodo senza pensare al sapore che poteva avere ma quando la fame si fu un poco calmata mi accorsi che mangiavo una minestra disgustosa ogni educanda si portava il cucchiaio alle labbra e poi lo posava disgustata allorché la colazione fu terminata si rese grazie di ciò che non si aveva avuto e si cantò un secondo inno dal refettorio si passò nella sala di studio nell'uscire vidi una maestra assaggiare la minestra guardare le altre e la udì dire che razza di cucina è una vergogna soltanto dopo un quarto d'ora ci si rimise al lavoro in quel tempo era permesso di parlare e tutti ne approfittarono per dir male della colazione povere creature era quella la loro unica consolazione non vi era di maestre altro che la signorina Miller le grandi la circondarono parlandone con aria seria e triste sentì pronunziare il nome del signor Brocklurst la maestra scrollava la testa come se disapprovasse il discorso ma non faceva nulla per calmare la generale indignazione che certo condivideva suonarono le nove e la signorina Miller ci ordinò di tornare ai nostri posti dopo dieci minuti regnava il silenzio le maestre erano tornate la scuola pareva in attesa di qualcosa le ottanta ragazze erano immobili sulle panche riunione curiosa tutte avevano i capelli lisci sulla fronte e passati dietro l'orecchio nessun ricciolo incorniciava i loro volti il loro ornamento era un colletto sul davanti dei vestiti scuri portavano cucita una tasca per il lavoro avevano le calze di lana grosse scarpe da contadine con una fibbia d'ottone una ventina di loro erano già donne e quel vestito bizzarro le faceva a parer tutte brutte io guardavo ed esaminavo anche le maestre nessuna di esse mi piaceva la grande era dura la piccina pareva irrascibile la francese era rude e grottesca la signorina Miller poi così rossa in viso pareva schiacciata sotto il peso dei pensieri a un tratto tutte le ducande si alzarono tutti gli occhi si volsero verso la porta entrava allora la signora che mi aveva ricevuto la sera prima ella si fermò guardando le due linee di educande gravemente la signorina Miller le si avvicinò le rivolse una domanda e dopo aver ricevuto la risposta tornò al suo posto e disse monitrici della prima classe portate le sfere mentre l'ordine era eseguito la sconosciuta passeggiava lentamente nella sala non so se ho in me un istinto di venerazione ma rammento ancora il rispetto col quale io seguiva i passi di lei alla luce del giorno mi parve bella alta ben fatta nei suoi occhi bruni brillava una viva benevolenza i sopraccigli ben disegnati facevano risaltare la candidezza della fronte e i capelli bruni erano scalati in tanti piccoli ricci sulle tempie non si portavano allora né ricci lunghi né sgonfi il suo vestito secondo la moda del tempo era color porpora con ornamenti di velluto nero frastagliato e alla cintura le brillava un orologio d'oro gioiello più raro allora che ora per completare quel ritratto occorre aggiungere che la signorina Mary Temple aveva i lineamenti fini una carnagione pallida ma chiara un portamento nobile la direttrice di Lowood si sedè davanti alla tavola su cui erano posate le sfere e riunendo intorno a sé la prima classe incominciò la lezione di geografia le classi inferiori furono chiamate dalle altre maestre e per un'ora continuarono le ripetizioni di grammatica e di storia la lezione di musica fu data dalla signorina Temple ad alcune fra le più grandi l'orologio annunziava quando era finita l'ora assegnata a ciascuna lezione quando suonò mezzogiorno la direttrice si alzò ho una parola da dire alle educande di Lowood disse ella il mormorio che seguiva ogni lezione cessò ed ella giunse stamani avete avuto una colazione che non avete potuto mangiare dovete aver fame e per questo ho ordinato che vi fosse preparato una merenda di pane e formaggio le maestre si guardarono meravigliate mi addosso la responsabilità di una disposizione si fatta aggiunse come per ispiegare la sua condotta quindi uscì dalla sala fu portata la merenda con gran piacere di tutta la scuola e dopo si ebbe ordine di andare in giardino ognuna si mise in testa un cappello di paglia ordinario fermato da nastri di cotone e si ravvolse in un mantello di panno bigio fu vestita fu vestita come le altre e seguendo le compagne giunsi all'aria aperta il giardino era un vasto appezzamento di terreno circondato da muri assai alti per impedire gli sguardi indiscreti da uno dei lati eravi un porticato il centro circondato da larghi viali era diviso in piccoli boschetti a ogni educanda entrando ne era assegnato uno per coltivarlo così che ciascun boschetto aveva una proprietaria nell'estate quando la terra si copre di fiori quei giardinetti dovevano essere veramente carini ma alla fine di gennaio tutto era pallido gelato e triste tremai guardando intorno a me la giornata non era propizia alla ricreazione all'aria aperta non che piovesse ma tutto era avvolto in una fitta nebbia umidiccia la tempesta del giorno prima aveva mantenuto la terra bagnata le più robuste fra le educande correvano da una parte all'altra facendo esercizi violenti alcune pallide e magre andavano a rifugiarsi sotto il porticato e dai loro petti usciva spesso una tosse cavernosa le più robuste fra le educande correvano da una parte all'altra facendo esercizi molto attivi alcune pallide e magre andavano a rifugiarsi sotto il porticato e dai loro petti usciva spesso una tosse cavernosa non avevo parlato a nessuno e nessuno pareva si accorgesse di me ero sola ma l'isolamento non mi pesava vi ero assue fatta mi appoggiai a una delle colonne del porticato avvolgendomi nel mantello cercavo di dimenticare il freddo e la fame che mi dilaniava io passavo il tempo a esaminare e a pensare ma le mie riflessioni erano troppo vaghe e troppo spesso interrotte per poter essere riferite sapevo appena dov'ero Gateshead e la mia vita passata fluttuavano dietro a me ad una distanza incommensurabile il presente era vago e strano e sul futuro non potevo far pronostici mi misi a guardare il giardino che pareva quello di un convento poi fissai la casa una parte della quale era grigia e vecchia mentre l'altra era nuova questa parte che conteneva la sala di studio e dormitori aveva finestre tonde e munite di inferriata che le davano l'apparenza di una chiesa una larga pietra collocata sopra l'ingresso portava questa iscrizione istituzione di Lowood questa parte è stata costruita da Noemi Brocklurst del castello di Brocklurst in questa contea che la nostra luce splenda dinanzi agli uomini affinché possano vedere le vostre opere buone e glorificare vostro padre che è in cielo san matteo versetto 16 dopo aver letto e riletto l'iscrizione capì che doveva essermi spiegata perché da me non avrei afferrato il senso pensavo a quel che voleva dire istituzione e mi studiavo di trovare il rapporto che poteva esservi fra la prima parte dell'iscrizione e il versetto della Bibbia quando una tosse cavernosa mi fece volgere la testa scorsi allora una ragazza seduta a poca distanza da me su una panchina ella teneva fra le mani un libro che pareva assorbire tutta la sua attenzione lessi il titolo era Russellus volgendo una pagina la ragazza alzò gli occhi e ne profittai per parlarle vi diverte codesto libro le domandai mi piace rispose di che cosa parla non potevo capire come mai io avessi la sfacciataggine di intavolar discorso con una sconosciuta contrariamente alla mia indole l'occupazione in cui l'avevo trovata assorta aveva certo fatto vibrare nel mio cuore una corda sensibile volete vederlo mi disse la sconosciuta offrendomi il libro fu convinta da un rapido esame che il contenuto era meno interessante del titolo e non vedendovi rappresentati né geni né fate glielo resi ella lo riprese senza dirmi nulla e stava per rimettersi a leggere quando la interruppi di nuovo potete dirmi le domandai che cosa significa l'iscrizione incisa su quella pietra che cos'è l'istituzione di Lowood e la casa dove siete venuta ad abitare perché si chiama istituzione che è forse diversa dalle altre scuole e in parte una scuola di beneficenza voi io e tutte le altre siamo figlie della carità dovete essere orfana difatti di mio padre e di mia madre non mi ricordo neppure ebbene tutte le ragazze che vedete qui hanno perduto almeno uno dei genitori ed ecco la ragione che fa dare alla scuola il nome di istituzione per l'educazione delle orfane paghiamo o siamo educate gratuitamente noi paghiamo o i nostri amici pagano 15 sterline l'anno allora perché ci chiamano le figlie della carità perché la somma che paghiamo non basta le spese per il nostro mantenimento e per la nostra educazione ciò che manca è fornito dai benefattori e chi sono essi alcune persone caritatevoli dei dintorni e anche di Londra e chi è quella Noemi Brocklarsht la signora che ha costruita la parte nuova della casa come indica l'iscrizione suo figlio ha ora la direzione generale della scuola perché perché tesoriere e capo dello stabilimento allora la casa non appartiene a quella signora che ha un orologio d'oro e che ci ha fatto dar la merenda la signorina temple è soltanto la direttrice ma vorrei che le appartenesse ella deve dar conto di tutto al signor Brocklarsht è lui che compra il vitto e i vestiti e abita qui no abita una villa distante mezza lega da Lowood è buono è un pastore e si dice che faccia molto bene come si chiamano le altre maestre quella che vedete là col viso rosso è la signorina smith e la taglia e sorveglia il cucito perché cuciamo da noi vesti e biancheria la piccina con i capelli neri e la signorina scatchard da lezioni di storia e di geografia e fa ripetizione alla seconda classe quella infine che vedete ravvolta nello scialle e che porta il fazzoletto legato da un lato con un nastro giallo è la signora Pierrot viene da Lille e insegna il francese volete bene alle maestre abbastanza volete bene alla piccina che ha i capelli neri e alla signora non so pronunziarne il nome come voi la signorina scatchard è impetuosa e bisogna fare attenzione di non ferirla la signora Pierrot è abbastanza buona ma la direttrice è la migliore non è vero oh la signorina temple è buonissima sa molto ed è superiore a tutte le maestre perché è più istruita di tutte e da molto tempo che siete qui due anni siete orfana mia madre è morta vi state volentieri mi fate troppe domande per oggi basta vorrei leggere un poco ma in quel momento la campana del desinare ci fece entrare tutte in casa l'odore che impiva il refettorio era appena appena più appetitoso di quello della colazione le pietanze furono servite in due larghi vassoi di stagno dai quali esalava un gran puzzo di grasso rancido il desinare si componeva di patate che non sapevano di nulla e di carne che sapeva di troppo ogni alunna ebbe una porzione assai abbondante mangiai quello che potei chiedendomi se tutti i giorni ci avrebbero dato lo stesso dopo desinare passammo subito nella sala di studio le lezioni ricominciarono per durare fino alle cinque il solo avvenimento notevole del pomeriggio fu il vedere che l'educanda con la quale avevo parlato la mattina venne mandata via dalla signorina Scutcher dalla lezione di storia senza che ne sapessi il motivo e condannata a stare in mezzo alla sala quella punizione mi parve molto umiliante specialmente per una ragazza di 13 o 14 anni come lei mi aspettavo di vederla dar segni di dolore e di vergogna ma con mia grande meraviglia non pianse né arrossì calma e grave ella rimase esposta agli sguardi di tutti pensavo che se fossi stata al suo posto avrei desiderato che la terra minghiottisse ma pareva che ella pensasse a qualcosa che non era il suo castigo qualcosa che non era la sua triste situazione a qualcosa che non era attorno a lei né davanti a lei avevo sentito parlare di persone che sognano a occhi aperti sognava forse il suo sguardo era fisso in terra ma sono sicura che non la vedeva pareva che lo sguardo di lei scrutasse il suo proprio cuore che fosse fisso nei ricordi io credo e non in ciò che era realmente presente quella ragazza era un enigma per me e non sapevo se fosse buona o cattiva alle cinque ci portarono di nuovo da mangiare questo pasto consisteva in una tazza di caffè e in un pezzetto di pane nero bevi il caffè e divorai il pane ma avrei mangiato di più perché avevo sempre fame dopo avemmo mezz'ora di ricreazione poi di nuovo lo studio finalmente il bicchier d'acqua e la fetta di torta d'avena la preghiera e tutte andammo a letto così passai il primo giorno all'Ood capitolo sesto il giorno seguente incominciò nella stessa maniera che il primo ci levammo ci vestimmo senza lume ma quella mattina fumo dispensate da allavarci perché l'acqua era gelata nelle catinelle la sera avanti c'era stato un cambiamento di temperatura e il vento di nord est soffiando tutta la notte attraverso le fessure delle finestre ci aveva fatto tremare nei nostri letti e aveva gelato l'acqua prima che l'ora e mezza destinata alla preghiera e alla lettura della bibbia fosse trascorsa io mi sentivo morire di freddo la colazione giunse infine e la mia parte mi parve scarsa ne avrei mangiato il doppio quel giorno fui arruolata nella quarta classe e mi dettero da studiare fino a quel momento ero stata spettatrice a Lowood ora divenivo attrice siccome ero poco assuefatta a imparare a mente da principio le lezioni mi parvero lunghe e difficili il passaggio continuo da uno studio a un altro mi imbrogliava così fui ben felice quando verso le tre del dopopranzo la signorina Smith mi consegnò una striscia di mussolina lunga due metri di tale e aghi e mandandomi in un angolo mi ordinò di orlarla quasi tutte cucivano in quell'ora eccetto alcune alunne che leggevano a voce alta attorno alla sedia della signorina Scutcher esse leggevano la storia d'Inghilterra e fra le lettrici riconobbi la ragazza con cui avevo parlato nel porticato al principio della lezione ella era in prima fila ma per qualche errore di pronunzia o per non essersi fermata quando doveva fu mandata in fondo alla stanza e la signorina Scutcher continuò a perseguitarla anche laggiù con le sue incessanti osservazioni e la si voltava sempre verso le ducanda per dirle Burns tenete male un piede raddrizzatelo subito Burns piegate il mento in modo sconcio smettete subito Burns vi ho detto di tenere la testa dritta non voglio vedervi davanti a me in quell' atteggiamento quando il capitolo fu letto due volte vennero chiusi i libri e l'interrogatorio cominciò la lezione comprendeva una parte del regno di Carlo I vi furono diverse domande sul tonnellaggio sull'imposta e il diritto pagato dai bastimenti alle quali molte alunne non sapevano rispondere ma tutte quelle piccole difficoltà erano subito risolte appena era interrogata la Burns pareva che la sua mente avesse ritenuta tutta la lezione e sapeva rispondere ad ogni domanda mi aspettavo che la signorina Scatcher le facesse una lode invece la sentii gridare a un tratto ditemi perché non vi siete pulite le unghie porcellina insopportabile la ragazza non rispose e io fui meravigliata del suo silenzio perché pensavo non le dice che non ha potuto lavarsi stamani essendo l'acqua gelata ma in quel momento la signorina Smith pregandomi di reggerle una matassa di filo distrasse la mia attenzione mentre che ragomitolava mi parlava di tanto in tanto domandandomi se ero stata in un altro istituto se sapevo marcare cucire e far la calza quando tornai al mio posto la signorina Scatcher aveva dato un ordine di cui non capì l'importanza ma vidi Burns uscir subito dalla sala andare in uno stanzino dove si tenevano i libri e tornare con un pacco di verghe legate insieme ella presentò con rispetto il fatale strumento alla signorina Scatcher poi senza averne avuto ordine si sciolse il grembiule e la maestra le dette subito dodici colpi sulle spalle con il fascio di verghe nessuna lagrima comparve sugli occhi di Burns mentre io avevo terminato di cucire perché le dita mi tremavano a quello spettacolo ed ero agitata da una collera impotente testarda esclamò la signorina Scatcher nulla dunque può correggervi di questo disordine riportate queste verghe Burns obbedì la guardavo furtivamente nel momento in cui usciva dalla stanza ripose il fazzoletto in tasca la traccia di una lagrima le brillava sulle guance scarne la ricreazione della sera era l'ora più piacevole della giornata il caffè e il pane distribuiti alle 5 senza calmare la fame rianimavano la vitalità cessava il lungo ritegno la sala era più calda che la mattina si alimentava meglio il fuoco per supplire alle candele non ancora accese la pallida luce del caminetto il rumore concesso il vocio tutto insomma destava in noi una dolce sensazione di libertà la sera di quel giorno io passeggiavo fra i gruppi allegri senza una compagna eppure non mi sentivo isolata forse se avessi lasciato una casa cara e buoni parenti in quel momento sarei stata disperata ma non provavo nessun rammarico saltando le panche e strisciando sotto le tavole giunsi al caminetto e mi inginocchiai davanti al fuoco vi trovai Burns assorta e silenziosa senza curarsi del rumore della sala e la leggeva attentamente un libro alla luce della fiamma è sempre Rasselas le domandai sì l'ho quasi finito di fatti dopo cinque minuti chiuse il libro con mia soddisfazione ora pensai vorrà parlare un poco con me e mi sedetti davanti a lei per terra qual è il vostro nome di battesimo Helen venite di lontano vengo da un paese del nord vicino la Scozia ci tornerete lo spero ma nessuno è sicuro dell'avvenire dovete desiderare di andarvene di qui no perché dovrei desiderarlo sono stata mandata a Lowood per istruirmi che ci guadagnerei andandomene senza aver compiuta l'istruzione ma la signorina Scutcher è così crudele con voi crudele no ella odia i miei difetti se fossi in voi la odierei le resisterei e se mi battesse con le verghe gliele strapperei di mano e gliele romperei sul viso è probabile è probabile di no ma se lo faceste il signor Brocklurst vi manderebbe via e cagionereste un gran dolore ai vostri parenti va il meglio sopportare pazientemente un dolore del quale siamo soli a soffrire che commettere un atto avventato le cui spiacevoli conseguenze ricadrebbero sulla nostra famiglia inoltre la Bibbia ci ordina di render bene per male ma è duro di essere battuta di essere messa in mezzo a una sala piena soprattutto alla vostra età sono molto più giovane eppure non lo sopporterei eppure sarebbe dovere vostro di rassegnarvi se non poteste evitarlo sarebbe un'aviltà da parte vostra di dire non posso quando sapeste che è il vostro destino io l'ascoltavo meravigliata non potevo capire quella dottrina di rassegnazione e meno ancora accettare quella indulgenza che dimostrava per chi la puniva sentivo che Ellen Burns considerava ogni cosa alla luce di una fiamma invisibile a me poteva darsi che ella avesse ragione ma non ero disposta ad approfondire quella faccenda dite che avete dei difetti Helen quali sono mi pare che siate tanto buona imparate da me allora a non giudicare dalle apparenze sono molto negligente come dice la signorina Scutcher metto raramente le cose in ordine e non ve le lascio mai dimentico le regole stabilite leggo quando dovrei imparare le lezioni non ho alcuna e dico talvolta come voi che non posso tollerarle nessuna regola tutto questo irrita la signorina Scutcher che è linda puntuale ed esatta è intrattabile e crudele aggiunsi ma Ellen non volle ammettere l'aggiunta e tacque la signorina Temple è forse severa come la signorina Scutcher nel sentir pronunziare il nome della direttrice un dolce sorriso illuminò il serio volto di Ellen la signorina Temple è piena di bontà disse le fa pena di dover essere severa anche con le più cattive ella vede i miei difetti e mi riprende dolcemente se faccio cosa degna di lode mi ricompensa liberalmente e una prova del mio naturale difettoso la vedo nel fatto che i rimproveri di lei improntati a tanta dolcezza e tanta ragionevolezza non hanno il potere di emendarmi e le sue lodi stesse che hanno tanto valore ai miei occhi non possono stimolarmi a divenire esatta e perseverante è strano esclamai è tanto facile di essere accurata per voi non ne dubito stamattina durante le lezioni ho visto che eravate attenta il vostro pensiero non pareva che vagasse allorché la signorina Miller spiegava la lezione e vi interrogava il mio invece viaggia sempre quando dovrei ascoltare la signorina Scatcher e raccogliere attentamente ciò che dice non sento neppure il suono della sua voce penso di essere nel Northumberland scambio il rumore che sento intorno a me per il mormorio di un ruscello che scorreva accanto a casa nostra quando viene la mia volta debbo uscir dal sogno ma siccome non ho ascoltato non trovo la risposta eppure come avete risposto bene stamani è stato un caso l'argomento della lettura mi piaceva invece di sognare il mio paese ero meravigliata che un uomo che amava il bene potesse commettere tante ingiustizie e pazzie come quel Carlo I pensavo che è triste con quella integrità e quella coscienza di non ammetter nulla all'infuori dell'autorità se fosse stato capace di vedere l'avvenire dove tendeva allo spirito del secolo eppure amo e rispetto quel povero re assassinato i suoi nemici furono più colpevoli di lui versarono un sangue che non avevano diritto di versare come poterono ucciderlo Ellen parlava a se stessa aveva dimenticato che io non potevo capirla bene e che ignoravo quasi l'argomento di cui trattava la ricondussi sul mio terreno e quando vi dà lezioni la signorina Temple continua a vagare il vostro pensiero no certo o almeno avviene raramente la direttrice ha sempre da dirmi qualcosa di più nuovo e di più conforme alle mie riflessioni il suo linguaggio mi par dolce ed ella mi insegna appunto ciò che desidero imparare allora con lei siete buona sì cioè sono buona passivamente non faccio sforzi vado dove mi conduce l'inclinazione non c'è merito in questa bontà ce n'è uno grande al contrario siete buona con quelli che sono buoni per voi è stato sempre quello che ho desiderato se si ubbidisse a coloro che sono crudeli e ingiusti i cattivi proseguirebbero troppo facilmente per la loro via quando ci colpiscono senza ragione dobbiamo colpire anche noi perché sarebbero tentati di ricominciare spero che quando sarete più grande cambierete d'idea no perché sento che odierò sempre quelli che mi odieranno che resisterò a chi mi punirà ingiustamente e che vorrò bene a chi me ne vorrà i pagani e i selvaggi proclamano questa dottrina che è sconfessata dai cristiani e dalla gente civile come non capisco con l'odio non si doma la violenza con la vendetta non si cancella l'ingiuria leggete il nuovo testamento ascoltate che cosa dice Gesù e che la sua parola diventi la vostra regola la sua condotta il vostro esempio e che cosa dice dice amate i nemici benedite coloro che vi maledicono e fate del bene a quelli che vi odiano e vi trattano con disprezzo allora dovrei voler bene alla signora Reed non posso dovrei benedire John ed è impossibile Helen mi disse di spiegarmi e cominciai allora a narrarle i miei dolori e i miei risentimenti nel parlare mi eccitavo e divenni amara e spietata Helen mi ascoltò pazientemente fino alla fine mi aspettavo qualche osservazione ma tacque ebbene le domandai la signora Reed non è forse una donna dura e senza cuore senza dubbio ella non è stata buona con voi perché non le piaceva il vostro carattere come il mio non piace la signorina Scutcher ma come vi rammentate esattamente tutte le azioni e le parole di lei che profonda impressione vi hanno fatto le sue ingiustizie nessun maltrattamento ha lasciato in me traccia così profonda non sareste più felice se cercaste di dimenticare la sua severità e le emozioni violente che ha eccitato in voi la vita mi par troppo breve per doverla spendere a odiare e a notare i torti altrui non siamo tutti carichi di peccati in questo mondo il tempo giungerà presto spero in cui ci spoglieremo di quest'involucro corruttibile allora l'avvilimento e il peccato ci lasceranno insieme con l'incomoda prigione di carne allora non ci rimarrà altro che la scintilla dello spirito il principio impalpabile della vita pura come uscì dalle mani del creatore per animare la creatura quel principio ritornerà là da dove mosse forse si comunicherà a qualche spirito superiore all'uomo forse traverserà degli stadi di gloria forse infine il pallido raggio dell'anima umana si trasformerà in quello splendente dei serafini il certo si è che questo principio non può degenerare non può allearsi allo spirito del male non posso crederlo la mia fede è ben altra cosa nessuno me l'ha insegnato e ne parlo raramente ma è la mia gioia non faccio della speranza il privilegio di pochi la estendo a tutti considero l'eternità come un riposo come una splendente dimora non come un abisso né un luogo di terrore con questa fede faccio una differenza fra il peccatore e il suo peccato perdono sinceramente al primo e odio il secondo il desiderio della vendetta non mi opprime il cuore il vizio non mi disgusta abbastanza per allontanarmi dal colpevole e l'ingiustizia non mi toglie il coraggio vivo calma fissando la morte la testa d'elen si abbassava sempre più nel parlare lessi nel suo sguardo il desiderio di cessare il discorso per potersi abbandonare ai suoi pensieri però non le fu lasciato molto tempo per meditare una monitrice appena avevamo cessato di parlare venne a dirle Helen Burns se non mettete in ordine i vostri cassetti se non piegate il lavoro chiamo la signorina Scutcher Helen sospirò ed alzandosi senza rispondere upidì subito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti